Resterà in carica sino alle elezioni anticipate la nuova giunta della regione Lombardia composta da tecnici e politici, 11 assessori, un sottosegretario e un delegato del presidente, confermati il leghista Gibelli e i pidiellini a Prea e Colozzi. Non ce l'ha fatta invece Ombretta Colli, tra i tecnici Mario Melazzini alla sanità, Andrea Gilardoni alle infrastrutture, Carolina Pellegrini alla famiglia, Nazareno Giovannelli al territorio e Leonardo Salvemini all'ambiente. Entra anche Giovanni Bozzetti al commercio, ex assessore comunale. Da venerdì si riunirà a oltranza il Consiglio regionale con l'obiettivo di approvare la nuova legge elettorale della Lombardia, subito dopo lo scioglimento, almeno secondo quanto sostenuto dal governatore Formigoni. La Lega e Contraria vuole che prima di giungere alle urne venga approvato il bilancio. Le sedute sono state convocate da venerdì sino a martedì della settimana successiva. Solo due donne su 11 assessori nella nuova giunta accusano le opposizioni. Neppure in un esecutivo precario Formigoni riesce a dare una rappresentanza alle donne, ha dichiarato Sara Valmaggi del PD. Secondo l'esponente del Partito Democratico, a giugno il Consiglio di Stato aveva accolto un ricorso di due associazioni contro l'insufficiente presenza femminile a Palazzo Lombardia e adesso nuovamente Formigoni replica l'errore. Le province lombarde devono rimanere 12 senza alcun taglio e questo è il primo provvedimento della nuova giunta a Lombarda su indicazione dell'assessore Romano Colozzi. Secondo il governo Formigoni, 12 province in una regione di 10 milioni di abitanti equivalgono a una media di 800 mila abitanti per provincia, insomma un numero sufficiente per chiedere che non vengano effettuati accorpamenti. È stato un atto inaccettabile, è stata violata la casa dei milanesi, così il sindaco Giuliano Pisapì ha commentato l'eruzione di una cinquantina di aderenti ai centri sociali ieri a Palazzo Marino mentre era in corso un'audizione del presidente dell'Aler. Due vigili urbani sono finiti a pronto soccorso. Precedentemente i giovani avevano manifestato per uno sgombero avvenuto in via Preneste dove ci sono stati tafferugli e manganellate e un giovane è rimasto leggermente ferito. Tensione tra Comune di Milano e Alera per l'inchiesta sulle infiltrazioni dell'Andrangheta che ha portato all'arresto dell'assessore regionale del PDL Domenico Zambetti. In udienza a Palazzo Marino è stato ascoltato il presidente di Aler, Loris Zaffra, che pur difendendo a spada tratta il suo operato e quello dell'azienda ha detto di essere pronto a lasciare l'incarico. Stop ai parcheggi selvaggi sotto gli alberi. L'annuncio è stato dato dall'assessore ai trasporti Pier Francesco Maran che ha detto che questi posti auto rovinano il verde. L'intenzione è quella di ampliare le strisce blu in tutta la città. L'operazione sarà a lungo termine ma i lavori sono iniziati al quartiere Isola, in Viale Gadio e in Corso Sempione. Scioperi e proteste domani nella sanità milanese con possibili ripercussioni sulle prestazioni offerte ai cittadini. Protesteranno i lavoratori degli ospedali San Paolo e San Raffaele e anche i lavoratori dell'Asla di Milano. I motivi ruotano attorno ai possibili tagli negli organici e alla riduzione della busta paga.